amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazione autosportive oggi siamo in officina a noi a segrate vi presentiamo questo lavoro su questa jaguar f-type ne abbiamo già presentate diverse di f-type però abbiamo sempre presentato la versione diciamo meno potente questa è la prima che ci capita ed è la p 450 allora adesso volevo farvi due dati su questo genere di vettura come dicevo sono stati fatti dal lancio sono state fatte diverse motorizzazioni quella più diffusa sulla quale abbiamo lavorato ci sono almeno due o tre video che descrivono quello che facciamo è la versione p 200 che monta un quattro cilindri in linea da 300 cavalli quindi per questioni fiscali super bowl e quant'altro è la versione che gli italiani privilegiano di più diciamo lo step successivo è la p 300 che a questo punto ha un v6 turbo da 300 cavalli quindi la sigla numerica dopo la p identifica i cavalli in sostanza quindi tranne la 200 che ha 300 cavalli tutto il resto identificano i cavalli quindi la p 300 è un v6 turbo da 300 cavalli poi è stata fatta la versione p 380 che sempre il v6 turbo da 380 cavalli successivamente nel tre anni fa è stata lanciata questa quella che vediamo qua sul ponte che la p 450 che ha un motore vuoto con compressore volumetrico e che appunto a 450 cavalli le due versioni top di questa vettura fra l'altro quattro ruote motrici sono la la versione r che si appunto sempre con lo stesso motore vuoto con compressore c'è la versione r che a 550 cavalli e la versione top in termini di potenza e la svr da 575 cavalli quindi una linea di vetture che va dai 300 ai 575 cavalli nello specifico venendo a questa vettura in particolare come dicevo la p 450 quindi 450 cavalli compressore volumetrico fa uno 0 104 virgola 6 secondi e raggiunge una velocità quasi di 290 allora la dichiarano per 284 nello specifico cambio automatico quick shift otto rapporti su questo tipo di vetture era è opzionale il cambio manuale 6 marce zf solo sulle sulle due versioni v6 tour quindi solo sulla p 300 sulla p 380 a richiesta il cliente può optare per il cambio manuale 6 marce carrozzeria completamente in alluminio come tutte le sportive di razza che si rispettino per cui si ottiene un peso di 1600 kg quindi un rapporto peso potenza veramente molto molto favorevole data la cavalleria un peso direi assolutamente contenuto per essere una macchina di ultimissima generazione perché ricordiamoci che 1600 kg su una sportiva andavano bene su una macchina di vent'anni fa io per dire ho faccio un paragone una porsche 993 turbo del 96 e pesa 1600 1500 kg stiamo parlando del 96 una macchina del 2024 ne pesa mediamente a parità di tipologia di vettura ne pesa mediamente dai 500 ai 700 kg di più perché sono cambiate tutte le caratteristiche tecniche la carrozzeria la dotazione di sicurezza quindi a parità di di vettura l'incremento di peso è stato minimo del 30 per cento dal 30 al 40 per cento finendo la descrizione di questa macchina sospensioni a doppio braccio oscillante quindi molto particolari la diciamo la caratteristica veramente tecnica che la distingue e che sono ammortizzatori adattivi e il diciamo l'utente ha la possibilità di settare 25 modalità differenti di assetto quindi a livello di assetto è stato fatto un lavoro veramente molto molto specifico e uno trova un settaggio esattamente perfetto per le per le proprie esigenze venendo a quel a questo punto a quello che noi abbiamo fatto il cliente ci ha ordinato una linea di scarico super sprint quindi come ho detto tante volte super sprint è un'azienda con la quale collaboriamo da da quando siamo nati da 36 anni un'azienda di mantova veramente molto 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 particolare direi se vogliamo il marchio più famoso tra le aziende italiane la caratteristica di questa azienda è il fatto di avere una un catalogo di vetture veramente ampissimo e per ogni vettura una tipologia di prodotti il più ampia possibile noi collaboriamo con tanti marchi a livello qualitativo non è non entro nel merito è meglio una migliorata la caratteristica peculiare il super sprint che se uno deve andare a prendere o uno scarico specifico una macchina del genere la fanno solo loro per esempio e di questa macchina in questo caso col cliente abbiamo da qua sotto si vede abbiamo lavorato dal dall'aggiunzione dell'anteriore fino in fondo poi volendo ci sono anche altre parti dello scarico però col cliente siccome la macchina è relativamente nuova al posto che andare comincerà a toccare catalizzatori o pf quant'altro abbiamo detto da metà macchina indietro cambiamo tutto quindi in sostanza questo è la diciamo la parte la x centrale perché sostanzialmente si 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 conforma come una x che va a togliere i due rompifiamma centrali che adesso abbiamo già imballato perché il cliente poi li voleva imballati quindi non riusciamo a farvi le idee comunque c'erano due rompifiamma centrali a questo punto la giunzione è stata fatta in questo punto lo scarico si dirama in scarico destro sinistro ovviamente omologato questa è la staffa di giunzione tra i due terminali queste sono le due pance che ovviamente sono molto molto più ridotte rispetto alle pance di serie della macchina qui c'è la parte del della va di gestione della valvola per cui con un tasto che si può attivare dall'interno della macchina si apre si chiude una valvola a seconda di quello che è il diciamo la necessità del cliente queste sono le uscite quindi 4 uscite da 120 leggermente brunite che vanno a seguire leggermente sfalsate che vanno a seguire esattamente la curvatura della parte posteriore della macchina quindi si vede che sono veramente basta solo vedere le gli allineamenti le 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 distanze tra un tubo e l'altro devo dire uno scarico un gioiello basta vedere anche qua sotto un cromato cioè devo dire un prodotto anche a vista anche se diciamo lo scarico sostanzialmente la parte sedica dello scarico uno guarda solo la parte diciamo a vista che la parte posteriore qui verrà chiaramente chiuso da una copertura che andrà a coprire la parte la parte posteriore e devo dire che il che anche a vista un prodotto del genere fra assolutamente la sua figura adesso niente tiriamo giù la macchina dal ponte la scaldiamo un attimo e sentiamo la sonorità che abbiamo raggiunto cambiando appunto queste due parti ecco come avete sentito la sonorità vi ho aperto chiuso le valvole così avete sentito fa casino lo stesso sia anche con le valvole aperte con le valvole chiuse direi che a livello visivo veramente aggressiva veramente impressionante con questi terminali veramente finiti in maniera impeccabile un lavoro eccezionale veramente una macchina strepitosa come ho descritto tante volte dal mio punto di vista una delle linee più belle fatte recentemente veramente tanto di cappello tanto di cappello quindi anche per questa jaguar f type la p 450 per oggi è tutto per qualunque genere di informazione sapete esattamente dove trovarmi quello che vi chiediamo per supportare il canale e cliccare sulla campanella e iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima iscriviti al canale